Tatami è il primo lungometraggio codiretto da una regista iraniana Zahramir e da un regista israeliano Ghinathif. Siamo ai campionati mondiali di judo in una località imprecisata e la judoka iraniana Leila, che è interpretata da Rian Mandi, è in grandissima forma e infila una vittoria dietro l'altra. La sua allenatrice Mariam, Zahramir, che è un ex atreta, sta a bordo campo e le suggerisce tutte le mosse adeguate. Anche lei stava per vincere i mondiali, per questo è così partecipe. Purtroppo non li ha vinti perché ha avuto un infortunio e l'ascesa di Leila infonde un modo per riscattare il suo mancato oro. Ma a un certo punto Mariam riceve una telefonata. È la lega di judo iraniana che impone di fermarsi. Leila potrebbe incontrare il nemico numero uno, ovvero l'atleta israeliana. E cominciano le pressioni, le minacce contro le due atlete e le loro famiglie. Mariam all'inizio si oppone ma poi cede. Leila invece non ne vuole sapere. Perché vedere Tatami? Anzitutto perché è un bellissimo thriller psicologico che con un bianco e nero spinto riesce a dare l'idea di questo patimento delle donne che lottano contro un regime, contro l'apartheid delle donne che uomini e donne insieme in Iran stanno cercando di affrontare, a cui stanno cercando di opporsi con tutte le loro forze. Ma è anche un film dal punto di vista tecnico molto importante, anche perché restituisce bene tutte le mosse sportive, ci fa capire che cos'è uno sport, ma soprattutto cos'è un film sportivo quando è anche un film politico. E poi racconta una serie di storie vere in realtà, prende spunto da quelle che sono la storia di atlete, come una ragazza che si era messa in short e pantaloncini per gareggiare una gara di pugilato, o una famosa atleta che si era arrampicata ai mondiali di Seoul senza il velo d'ordinanza. Quindi racconta la storia di queste donne, ma racconta anche la storia di un popolo, un film bello, politicamente impegnato e dal punto di vista della sensibilità umana molto pronunciato.